I movimenti di genti del Mediterraneo, problemi e prospettive. Perché il Comune di Pianella si inserisce in questo dibattito, in questa dialettica, nel convegno in programma per l'8 novembre? Noi abbiamo voluto sollevare un problema, un problema di attualità che secondo me stiamo trascurando. Pianella da solo ospita oggi oltre 300 immigrati che si sono integrati. Per oggi viviamo la fase della rivoluzione dell'Africa, la parte sul Mediterraneo, che può essere preoccupante, in quanto purtroppo sta prevalendo più la parte oltransista dell'Islam. E questo può essere un pericolo. Allora lo dobbiamo analizzare, ci dobbiamo attrezzare. Noi dobbiamo essere anche solidari, ci mancherebbe poterli ospitare. Ma dobbiamo analizzare questi flussi e in che modo possiamo agire in modo preventivo per far sì che non succeda, come è accaduto qualche anno fa, che ne vediamo sommersi con i campi d'accoglienza che penso non siano né una buona immagine per la stessa Europa e soprattutto per l'Italia. Location e orario a Pianella l'8 novembre? L'8 novembre inizeremo alle ore 16. Abbiamo un ospite illustro che è il Dea Zveto, che è il vice o il prorettore dell'Università della Sapienza, l'università più grande d'Europa, peraltro anche docente di immigrazione. Oltre a lui ci sarà anche la presentazione unitamente con il professore Aladino. presentiamo questo accordo che abbiamo fatto per l'università telematica. C'è una convenzione, come sempre con la Sapienza, Pianella sarà anche sede, tra virgolette, anche un punto decentrato dove poter accogliere gli iscritti e perché non fare delle lezioni. Quindi andiamo sempre con quella politica di incrementare i servizi e di essere a disposizione del territorio.